Un'importante operazione antidroga è stata condotta ieri dai carabinieri della compagnia di Agropoli sotto la guida del capitano Giuseppe Colella. L'operazione ha anche coinvolto il nucleo cinofili di Sarno e si è concentrata sulle abitazioni popolari di Via Taverne, un'area ritenuta particolarmente a rischio per l'attività legate al traffico degli stupefacenti. L'obiettivo principale del blitz era individuare eventuali collegamenti con rete di spaccio locale. Durante le perquisizioni domiciliari alcuni membri della comunità rom residente nell'area sono stati condotti in caserma per essere interrogati. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il loro possibile coinvolgimento nelle attività illecite connesse alla vendita di droga. L'indagine è ancora in corso e gli inquirenti stanno lavorando per smantellare le organizzazioni criminali attive nel traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le forze dell'ordine sottolineano che questa operazione si inserisce nel quadro più ampio di interventi mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nelle aree più critiche del territorio. L'operazione di Via Taverne segue un arresto rilevante avvenuto pochi giorni fa a Casalvelino che ha portato al fermo di un uomo di 47 anni identificato come DM residente ad Agropoli. L'uomo è stato trovato in possesso di un significativo quantitativo di droga tra cui 48 grammi di cocaina, 127 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana. Durante la perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno anche sequestrato bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, denaro contante e diversi telefoni cellulari, strumenti ritenuti fondamentali per le attività di spaccio. Le forze dell'ordine stanno intensificando le operazioni antidroga, in particolare nell'area più a rischio per garantire la sicurezza del territorio e per smantellare le reti di spaccio che operano già nel Cilento. L'attenzione resta alta e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.